Doppio appuntamento elettorale ieri nell'ambito dell'alleanza civica progressista a sostegno del candidato a sindaco Carlo Guccione. Giacomo Mancini, promotore della lista Oltre i Colori, ha scelto un luogo inconsueto per presentare la sua squadra di candidati consiglieri, la stazione ferroviaria di Vagliolisse, perché, spiega l'ex deputato, secondo il programma di Mario Chiuto, doveva diventare la grande porta commerciale di Cosenza, mentre rappresenta invece l'emblema del degrado e della deriva in cui la città è precipitata. 15 uomini e 17 donne compongono la compagine di Oltre i Colori, politicamente vicina al leader di Ala, Denis Verdini, e che annovera tra gli altri anche Giulia Fresca, ex componente dell'esecutivo di Palazzo dei Bruzzi. Contemporaneamente, al cinema modernissimo, anche il Partito Socialista ha presentato i suoi candidati, nel corso di una manifestazione cui hanno partecipato il segretario regionale Luigi Incarnato e il segretario PD Ernesto Magorno. C'era anche Andrea Cuzzocrea, leader locale di Centro Democratico. Il partito di Tabacci, infatti, in questa campagna elettorale, presenta il proprio simbolo insieme a quello dei socialisti. Ad entrambi gli appuntamenti è intervenuto Carlo Guccione, Salvatore Bruno per la C News 24.